Salve a tutti. La missione che vi mostrerò oggi l'avevo fatta grazie a Bilbo che ha trovato questo server. Volete sapere come mai questo titolo? Allora non perdetevi il video. Abici ci sei? Lo conosci? Abici è un grande costruttore. Sì esatto. Bilbo dove cavolo siamo? Che server è questo? Aspettate. Voi avete Youtube. Abici è vero che sei un costruttore. Giusto. Accidenti Bilbo mi sa che ci ha già riconosciuti. Ora come usciamo da questa merda? Abici è un costruttore di planet minecraft. Ok proprio spudorato. Vediamo se ci casca. MMM. Admin conosci planet minecraft? Solo un secondo. Bilbo ma che posto è questo? Oddio. Non ci credo. Enormi costruzioni di redstone come queste le avevo viste in alcuni video di youtuber stranieri. Questo coso è un computer costruito dentro minecraft usando la redstone. Non ne avevo mai visto uno dal vivo. Non vuoi griffarlo? Io conosco un grande youtuber che è pure mio amico. Cerca liu4316. Certo che voglio grittarlo. Comunque complimenti Bilbo. Sia per aver trovato questo server sia per la scusa che ti sei inventato. Speriamo che ci caschi al pensiero di grippare questa cosa. Sono agitato come una cagna in calore. Le chiamo ancora un po' il culo. Gran bel server. Ma cosa fanno questi circuiti Admin? Fratello. Questo circuito è perfetto. Ehi Ethan, vuoi fare una battaglia di redstone contro abici? Battaglia di redstone? Aga gaga. Cosa vuole fare? Perfetto. Perfetto Bilbo. Lo sai che appena vedrà che sono una schiappa con i circuiti ci romperà il culo. Vediamo di cambiare un po' il verso del discorso o non ne usciamo con l'anno intero. Abici sei un buon redstoneer? Beh, non sono proprio bravo come... Puoi chiedere a Luke di fare un video sul mio server? Oh sì. Certo. Luke è un mio amico. Solo una cosa. Io ho bisogno di persone che parlino inglese, non spagnolo. Spagnolo? Oh sì certo. Non preoccuparti Luke, conosce pure l'inglese. Io sto morendo, i dialoghi di adesso sono semplicemente epici. Ho bisogno che Luke faccia un video in inglese così che solo che parla inglese possa venire qui. Ma il canale di Luke è spagnolo. Bilbo dai non guastarmi il gioco. Io sto rotolando giù dalla sedia. Luke è inglese, ma è emigrato in Spagna quando era bambino. Mio dio non ho nemmeno idea delle cazzate che sto sparando. Posso esserti utile. Dai. Dammi i permessi e vedrai come so lavorare con la resto. Cosa vuoi fare? Bene lo sto coinvolgendo. Dopo questa frase, lui ha iniziato a spiegarmi il funzionamento di tutto e io ho insistito per un po' a convincerlo di darmi i permessi per costruire. Caro admin, io ho sempre voluto studiare elettronica, ma i miei genitori non avevano i soldi per potermelo permettere. Madonna che storia strappalacrime mi sono inventato. Vediamo se ci casca. Accidenti, però puoi fare i circuiti di Redstone. Bravo vedo che hai capito. Ora dammi i permessi per distruggerti tutto. Dite che sono stato troppo cattivo con lui. Ok va bene. Che pena mi fai? Spero di poterti aiutare a soddisfare il tuo sogno. O si è tan. Certo che lo realizzerò. Ho sempre voluto griffare un computer e quindi ho preso le mie dovute precauzioni. Ti ho fatto la sera prima da schiavetto per aiutarti a montare i circuiti, ma sarà la mattina dopo che scoprirai la mia vera indole. Avevo deciso di griffare al mattino perché non potevo farlo ste-alto davanti all'Ovner e dato che il server è statunitense pensavo che mentre da noi è mattino da loro è notte. In ogni caso il nostro caro Ethan non era qui vicino, ma era comunque online. Mi sono quindi armato di secchio di lava e ho cercato di griffare tutto nel più breve tempo possibile prima che si accorgesse di me. Visto che alla fin fine però la griffata è stata piuttosto noiosa e ripetitiva fra circuiti tutti uguali, ho deciso di tagliarla quasi tutta per evitare di fare come in Abbazzi un video di solo tunz tunz. In ogni caso sappiate che, mentre griffavo quei circuiti, mi tremavano le mani dall'agitazione. Ho guardato un po' su Youtube e io credo di essere l'unico griffer che finora ha griffato un computer. Mi ritengo fortunato, grazie Bilbo. Il link del suo canale l'ho trovato in descrizione. Ok ho quasi finito, oh ciao Ethan. Tutto ok? È un po' surriscaldato il tuo computer vero? Non mi banni? Credo sia sotto shock. Tranquillo, un bel bagno nella lava calda è rivitalizzante. Su! Fatti un tuffo. Niente, mi sa che è morto. Ho finito il lavoro, quindi slogo. Ah ecco mi pareva strano. Alla fine deve essersi svegliato. No. ABC. Ti ho bannato da 680.000 server. Come hai fatto ad arrivare qui? Stavo per chiederti la stessa cosa, comunque quanto tempo è TAN? Contento di vedermi. Io però darei una controllatina alle tue blacklist. Meno male che avevo Frazza sotto mano o mi sareste persi questa scena. E TAN sto facendo un video della nostra griffata, non sei contento? Lo sai che ho fissato quel computer di Redstone con un solo comando vero? Certo che lo so. Comunque noto che l'hai presa bene visto l'accoglienza che mi stai riservando. No non lo sai. Bugiardo. Ok. Direi che la trollata con te è pienamente riuscita. Grazie anche per questo finale inaspettato. Fai un blocco di roccia, uno di aria e un altro di roccia. Così possiamo vederlo. Accidenti e TAN. Mi vuoi talmente bene che mi hai reso una celebrità dalle tue parti. In una prigione, ma pur sempre una celebrità. Tu sei solo un piccolo barbone, senza genitori e senza vita. Inoltre non sai parlare inglese, il poco che parli fa schifo. Questa è forse l'unica cosa che non metto in dubbio. Dai te la concedo rispondendoti ancora col mio inglese di merda. Ma non preoccuparti. Presto arriveranno altri come me a trovarti. Ragazzi, l'IP del server lo trovate in descrizione e in sovraimpressione ora. Andate a fargli visita e ditevi che vi mando io. Vi accoglierà a braccia aperte da quello che posso leggere. LOL. Prova a griffare un'altra volta invece di cambiare due blocchi. Un gatto fa più danni di te. Questi bano originali sì che sono soddisfazioni. Arrivederci alla prossima.